Buongiorno amici amiche, questa mattina siamo qui a Marugio, provincia di Taranto. Sta per partire il primo congresso nazionale della Fondazione Maria Guarino Amoronlus, ossigeno, zonoterapia, indicazioni cliniche e nuove prospettive. Prospettive importanti sia per la medicina innovativa ma soprattutto per la medicina complementare alla medicina tradizionale, seguiti il servizio. Da poco meno di un anno e mezzo a questa parte, grandi passi in avanti della Fondazione Maria Guarino Amoronlus, stamattina siamo al primo congresso nazionale. Grazie alla diffusione che Margherita Luongo sta facendo in ambito nazionale, ecco questo è il primo evento estremamente importante nella terra, questa terra splendida meridionale. E quindi Alfredo Luongo, sindaco di questo paese che è Marugio, provincia di Taranto, oggi ospita questo primo congresso sull'ossigeno zonoterapia. Siamo in compagnia della dottoressa Luongo, vicepresidente della Fondazione Maria Guarino Amoronlus, ma Deus ex macchina di questo straordinario evento di stamattina. Una corsa in avanti della Fondazione a meno di un anno e mezzo dalla nascita, siamo già al primo congresso nazionale. Sì, salve e buongiorno, oggi il primo congresso nazionale della Fondazione Maria Guarino Amoronlus, grazie ai nostri medici volontari sostenitori e grazie all'organizzazione del nostro medico, nonché sindaco del comune di Marugio, il dottor Longo. Oggi parleremo dell'ossigeno zono nelle varie indicazioni cliniche in ambito oncologico. Grazie, grazie dottoressa. Buona giornata. Stamattina parte il primo congresso nazionale Amoronlus, un titolo importante, un tema ancora più importante. Sì, infatti i temi che verranno trattati sono di attualità, nello specifico il mio tema riguarda un po' il danno cardiovascolare, il trattamento con l'ozono terapia, con i risultati che si possono raggiungere e chiaramente anche con quelli che sono i meccanismi che possono sottolineare sia il danno e l'effetto benefico dell'ozono terapia. Professore, ossigeno zono o terapie cliniche? L'ozono terapia oggi è usata in moltissimi campi, in campo oncologico cominciano ad esserci delle prime evidenze, di una certa efficacia, ma soprattutto in campo del dolore, del dolore neuropatico, del dolore infiammatorio, varie patologie degenerative croniche, quindi moltissimi sono gli ambiti. E' una bella cosa la fondazione che Carlo Luonga ha fondato intorno anche al nome di Maria Guarino che ho conosciuto un'amica carissima e sicuramente vedo che sta progredendo velocemente trovando riscontro nelle necessità della popolazione, nei problemi clinici non tanto bene risolto alcune volte dalla medicina classica e quindi mi auguro che possa crescere ancora di più con il contributo di tutti noi. Padrone di casa, ospita a questo straordinario momento scientifico il primo congresso nazionale della fondazione. È un grandissimo onore per noi poter ospitare questo evento qui a Marugio e spero tra poco di vedere tanti colleghi che man mano che stanno arrivando mi dicono io non conosco nulla di questo argomento. Ed effettivamente questo è il motivo principale per il quale grazie al professor Luongo e a Margherita Luongo, il presidente e la vicepresidente abbiamo deciso anche di investire in Puglia per far conoscere a molti colleghi, a oncologi, a medici di medicina generale, medici di medicina interna, all'anestesisti, il ruolo dell'ozono in medicina. Sicuramente l'ossigeno è una terapia importante perché ci permette di utilizzare una terapia con scarsissimi effetti collaterali e avere un gran numero di effetti positivi per il paziente. L'ozono terapia è una branca della medicina riconosciuta nelle università tanto è vero che ci sono dei master e dei corsi di perfezionamenti quindi non è nessuna medicina praticamente alternativa, è una medicina innovativa direi che permette di utilizzare questo gas che è l'ossigeno ozono per varie patologie tra cui la terapia del dolore e eventualmente anche altre patologie. Grazie